bene buonasera a tutti allora è veramente un piacere dare il bentornato a roberto esposito e sono proprio molto lieto di di salutarlo a nome di tutta la classe di lettere di tutta la comunità della scuola e di ringraziarlo soprattutto per quanto ha fatto negli anni in cui appunto è stato qui docente di filosofia teoretica e ringraziarlo anche voglio dire per la sua saggezza umanità il tratto sempre garbato con cui ha affrontato qui alla scuola ogni questione questo ha avuto modo di sperimentarlo di apprezzarlo chiunque sia stato collega a me questo privilegio è toccato soltanto per due anni ma appunto sono bastati per apprezzare le sue le sue doti ripeto umani intellettuali ma anche insomma il suo lavoro più in generale e del resto sono stato molto lieto di conoscerlo di conoscerlo di persona qui ma lo conoscevo già e conoscevo già diciamo la sua brillantezza anche di scrittura voglio dire leggendolo su sulle colonne di di repubblica e perché ricordo anche questo questa sua appunto capacità di di scrittura anche così di opinionista perché veramente c'è in roberto esposito una molteplicità e allora voglio ricordare un'altra cosa che forse non molti sanno che un altro tratto suo che me lo avvicina ancora di più ed è il fatto che prima ancora di diventare uno dei filosofi e dei docenti di filosofia più importante d'italia molto noto anche fuori d'italia roberto esposito ha avuto una formazione di italianista possiamo dirlo di italianista nella sua napoli alla scuola di un grande maestro che era giancarlo mazzacurati del quale sono stato posso dire molto amico anche se come direbbe giovanile della casa tenuior amicus però insomma mi ha onorato della sua benevolenza mazzacurati e appunto in roberto esposito ho ritrovato molto di quella anche voglio dire cordialità proprio nel distribuire diciamo il sapere che era che era di 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 mazzacurati e quindi lo ringrazio ancora anche di questa lezione che 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 ci dona appunto oggi pomeriggio e che si intitola vitam instituere le istituzioni nelle società contemporanee e con questo vi lascio molto volentieri la parola prego grazie grazie preside colleghi amici allievi potete immaginare tutti con quale contentezza e anche con quale emozione torno a parlare in quest'aula vi parlerò del significato del ruolo delle istituzioni nel mondo contemporaneo ma lo farò a partire da un pretesto di ambito classico anche in omaggio ai classifisti quello che i francesi chiamano una misanabim cioè una chiave paradigmatica per entrare nel testo vero e proprio e del resto in senso genealogico l'origine sempre incastonata nella contemporaneità e il contemporaneo si misura sempre con l'originario che contiene al proprio interno fin dalla prima apparizione l'espressione vitam instituere ha posto una serie di interrogativi che ne hanno reso la dissipazione complessa già in uso nella produzione letteraria e storiografica latina cicerone terenzio sallustio con un significato prevalentemente pedagogico essa assume un profilo più sfuggente in ambito giuridico collegata dalla cultura umanistica a un frammento del giurista romano elio marciano tale lemma conosce una vicenda assai intricata che non ha mancato di contrapporre gli interpreti con una asprezza inusuale la polemica che ne è scaturita per esempio tra l'antropologo pierre legendre e lo storico del diritto tomat e romano ian tomat lascia intuire che intorno a esso si giochi qualcosa che va al di là di una semplice occorrenza testuale per coinvolgere l'intera relazione tra diritto e vita umana in gioco non è solo la configurazione storica che di volta in volta questa relazione assunto ma la sua stessa pensabilità la possibilità di pensare insieme vita e diritto in una modalità che non sacrifichi l'uno all'altra ma al contrario li potenzi reciprocamente da questo punto di vista l'opacità che avvolge il lemma vita istituere costituisce io direi la cifra di una difficoltà più generale che ostruisce il transito concettuale tra istituzione e vita a risultare problematica è una prospettiva che ci restituisce al contempo il tratto vitale dell'istituzione e il carattere restituente della vita anziché articolarsi in una figura unitaria capace di illuminare entrambi e come se due termini tendessero a divergere fino a smarrire il vincolo che pure in fondo li collega da dove nasce questa simmetria cosa trascina l'istituzione lontano dalla vita irrigidendola in una dimensione puramente formale e perché a sua volta la vita ha difficoltà a riconoscersi in una forma che ne potenzi la capacità istituente quale interdetto pesa da più di duemila anni sulla possibilità di connettere istituzione vita forma e forza storia e natura ecco prima di tentare una risposta a tali questioni proviamo a ricostruire almeno nei suoi passaggi essenziali la genealogia testuale dell'emma vitam instituere alla sua origine vi è il frammento del filosofo de mostene citato in greco da marciano nel primo libro del digesto insieme a un passo di crisippo esso afferma in termini generali che gli abitanti della città devono vivere in maniera conforme al patto comune che essi stessi si sono dati come si vede in questa proposizione mancano entrambi i termini della locuzione vita e istituire e comunque la vita espressa nella forma verbale del vivere più che l'oggetto appare il soggetto dell'istituzione non si parla di una vita istituita dalla legge ma di un modo di vivere confacente alla legge che i cittadini stessi si sono dati ma soprattutto manca l'espressione latina che compare invece a sé più tardi inserito nel digesto nel sesto secolo il passo di de mostene o comunque a lui attribuito è stato a lungo espunto dei manoscritti medievali per riapparire solo alla fine del dodicesimo secolo nella traduzione latina di burgundio da pisa la quale però anziché recitare vita mistituere usa la formula in fondo più fedele al testo greco secundum leges vivere la differenza non è da poco in questa formulazione l'istituzione anziché sovraordinata alla vita appare il suo stesso modo di essere una dimensione immanente all'atto di vivere che non è subordinato ad alcuna norma trascendente non è il diritto a istituire una vita ancora non giuridificata ma la vita nel suo stesso farsi a istituirsi secondo i modi di una legge liberamente assunta la vita appare dunque insieme oggetto e soggetto di un'istituzione e fa tutt'uno con essa e solo a sé più tardi nella stagione umanistica che compare il lemma vita istituere ad opera di guillant boudet e poi più volte ripreso successivamente per esempio da romagnosi anche se erroneamente attribuito al giudizio al giurista papiniano anziché a marciano infine a partire da un certo momento in poi le dizioni più attendibili del digesto restavano il testo greco di demostrano eliminando del tutto la traduzione latina ma neanche allora si può dire che caduta l'espressione la questione che essa contiene sia del tutto risorta e come se anche se cancellata l'espressione vita amistituere continuasse a porre domande che superano il contesto storico filologico in cui appare per allungarsi fino all'ambire l'orizzonte filosofico contemporaneo intorno a quell'emma insomma si gioca una partita più ampia che ha perposta sia la definizione del diritto che la qualificazione della vita al loro incrocio restano irrisolte diverse domande intanto ci si può chiedere perché la citazione di demostrano da parte di un giurista romano cosa essa rivela cosa essa nasconde gli storici del diritto si sono a lunghi posto la questione pervenendo a conclusioni disparate intanto va ricordato che l'usanza di citare autori greci da parte dei giuristi romani è tutt'altro che infrequente ma in questo caso qual è il significato della citazione qual è la sua forza qual è la sua dinamica qual è la sua portata pur non mancando tra gli studiosi che ha visto nella citazione di marciano sono un riferimento tecnico tecnico procedurale di tipo giuridico resta invece in altri l'impressione che esso vada ricondotto a un orizzonte più ampio appunto di ordine filosofico ciò è suggerito peraltro dalla presenza nello stesso frammento dell'altra citazione di crisitto definito dallo stesso marciano sommo filosofo stoico in essa nella citazione di crisitto è detto che la legge assolutamente sovrana nomos basileus nei confronti di uomini per natura politici e quindi sia l'implicito riferimento ad aristotele uomini per natura politici sia ancora di più la ripresa della celebre espressione di pindaro conferiscono al passo di crisippo un netto timbro filosofico solo in quanto universale espressiva di una giustizia più alta la legge può sovrastare uomini e dei attenzione non bisogna esagerare l'eco religiosa del passo diversamente che in pindaro nomos basileus va qui inteso più che come comando divino come ciò che fonda la comunità umana perché collocato al di sopra sia dei governanti che dei governati e questa universalità del nomos riconducibile all'ispirazione storica di crisippo a conferirgli luogo di istituzione della polis vero è che simile consapevolezza teoretica è difficilmente ipotizzabile da parte di un giurista come marciano del resto nel momento in cui egli presumibilmente scrive padrone della legge è solo il princeps come noto nel secondo e terzo secolo le leggi comiziali repubblicane erano da tempo scomparse a favore delle costituzioni imperiali proprio questo scarto temporale consente tuttavia di leggere nel frammento di marciano se non una velata critica almeno una qualche presa di distanza cauta presa di distanza rispetto all'assolutezza del potere imperiale ma torna la domanda su quella che appare un'incongruità da parte di un autore come marciano ben consapevole dei rapporti di forza nella roma imperiale perché un richiamo all'universalità della legge proprio nella fase in cui esse ridotta al volere particolare dell'imperatore nessun giurista del tempo poteva immaginare un ritorno al mondo repubblicano certamente esaurito per sempre e tantomeno poter immaginare un salto in avanti verso un orizzonte ancora nebuloso come quello profilato dal cristianesimo eppure una sorta di inquietudine la promessa di un passaggio inedito un'apertura al futuro sembrano vibrare in questa citazione a lasciarlo pensare oltre al doppio richiamo a De Mostre e Crisippo e la sua contiguità lessicale con un altro passo del digesto 131 del giurista prima richiamato contemporaneo di marciano e anche gli lettori di De Mostre cioè appunto Papignano scrive Papignano la legge e precetto comune comune preceptum comune stipulazione comunis sponsio della repubblica torna infine anche in questo caso un rapporto costitutivo tra istituzione vita in una forma che esclude un'imposizione dall'alto all'origine della legge evidentemente è posto l'insieme dei cittadini che l'hanno istituita istituendosi in questo modo come cittadini della medesima città anche in questo caso la vita appare allo stesso tempo istituente e istituita formante e formata soggetto e oggetto dell'istituzione torna per altra via la reciprocità di una relazione custodita e insieme celata nell'enigmatico brocardo vitam instituere ecco questo punto abbandonando il testo di marciano all'interpretazione dei romanisti facciamo un salto vertiginoso che ci porta alla nostra condizione contemporanea nonostante i duemila anni che ci separano da quell'espressione il problema che abbiamo di fronte non cessa di evocarla come perché vitam instituere io credo che il compito qui oggi siamo tutti chiamati quando ancora in corso la battaglia contro la pandemia sia appunto quello custodito in quell'antico lemma di ripensare l'istituzione nel suo significato più intenso di istituzione della vita dopo che per mesi la vita umana è stata minacciata e anche sovrastata dalla morte il nostro sforzo comune non può essere che quello di istituirla sempre di nuovo la vita umana non è un dato puramente naturale un semplice evento biologico ha bisogno di essere istituita sul piano sociale politico simbolico in una forma che oltrepassi la sfera individuale per entrare dentro una rete di relazioni capace di intensificarla e svilupparla cosa altro è del resto la nostra vita se non istituzione continua di nuove relazioni nuovi significati anna arendt richiamandosi ad agostino di pona ha scritto che gli uomini stessi sono un inizio perché il loro primo atto è quello di venire al mondo dando vita a qualcosa che prima non c'era perciò non è possibile per nessuno cessare di istituire la vita anche nei momenti più bui come quelli che abbiamo vissuto e ancora arriviamo non viene mai meno la tendenza umana a ricominciare da capo a ripartire per un viaggio che riguarda ciascuno di noi ciò è possibile solo attraverso le istituzioni dirlo qui davanti a voi nella più importante istituzione culturale italiana che mi ha ospitato sei anni per me straordinari mi inorgoglisce e mi commuove allo stesso tempo naturalmente ciascuno può e anzi deve avere un progetto di vita individuale ma nessuno può essere completamente indifferente alla società che lo circonda e alla sua organizzazione istituzionale da questo punto di vista vita e istituzioni si stringono in un nodo inscendibile come non esiste vita senza istituzioni così le istituzioni incorporano al proprio interno la vita delle persone che le rende a loro volta vitali in fondo le istituzioni sono i se stessi organismi che nascono si sviluppano muoiono quando si esauriscono le loro motivazioni sono inserite come gli esseri umani nel flusso della storia ne sono influenzati a loro volta la influenzano consentendo la successione e il ricambio delle generazioni se da queste considerazioni generali caliamo lo sguardo su quanto succede oggi intorno a noi in questi anni in una delle stagioni più drammatiche che abbiamo vissuto non possiamo ignorare il ruolo decisivo che hanno avuto le istituzioni certo esse sono state criticate spesso giustamente per come hanno operato per le inadempienze i ritardi le contraddizioni che hanno caratterizzato i loro interventi a volte confusi non sempre indispensabili spesso male comunicati ma la medaglia va guardata anche dall'altra faccia troviamo a domandarci per un attimo come avemmo fatto senza istituzioni nella primavera dello scorso anno e anche dopo in mancanza di una bussola per orientare i nostri comportamenti di argini entro i quali incanalarmi come avremmo resistito agli attacchi del virus fuori dalle istituzioni parlo di tutte le istituzioni internazionali nazionali locali sociali professionali istituzioni pubbliche e private politiche sociali governative non governative se la pandemia non ha travolto tutte le resistenze dilagando indisturbata si deve essenzialmente a esse il fatto che abbiano manifestato limiti evidenti anziché portare un atteggiamento di rifiuto pregiudiziale dovrebbe accrescere il nostro impegno a rafforzarle ma anche a modificarle perché società mercato sanità scuola università nessuna di queste istituzioni può restare quello che era prima la loro possibilità di durata coincide con la necessità del loro rinnovamento qui c'è una questione che riguarda non solo la prassi effettiva ma anche la filosofia delle istituzioni e più precisamente il loro rapporto con la storicità le istituzioni valgono solo se capaci di modificarsi anziché come in blocchi immobili nel tempo vanno guardate dal punto di vista del loro divenire del loro movimento soltanto istituzioni che sappiano rinnovarsi in base alle esigenze dei cittadini possono aspirare alla loro fiducia proprio qui nella mancato e insufficiente capacità di modificarsi affonda le radici una crisi istituzionale che risale agli anni sessanta del novecento quando esploso un contrasto radicale tra istituzioni e movimenti se si ripercorre il dibattito di quegli anni lo si vede spaccato in due polarità reciprocamente inconciliabili posta l'una in contrasto radicale con l'altra da un lato la riproposizione di un modello conservativo di istituzione refrattario a ogni trasformazione dall'altro una proliferazione di movimenti anti istituzionali irriducibili all'unità di un progetto comune il risultato di tali varicazioni è stato uno scollamento sempre più netto tra politica e società a una logica istituzionale chiusa in se stessa incapace di parlare al mondo sociale si è opposto un pulviscolo di proteste irrelate che non ha saputo saldarsi in un fronte unico ciò ha portato a un risultato doppiamente controproducente come la chiusura autoreferenziale delle istituzioni provocava per reazione atteggiamenti drasticamente anti istituzionali così questi hanno a loro volto determinato un ulteriore irrigidimento delle istituzioni escluso in linea di principio ogni termine intermedio istituzioni conservative e pratiche anti istituzionali si sono alimentate a vicenda bloccando ogni dialettica politica di rinnovamento colpisce il fatto che fino agli ultimi decenni anche se con intendimenti diversi opposti intellettuali di destra e di sinistra da schmitt a gelen da marcusi a fucco abbiano finito per condividere la stessa interpretazione statica e conservativa delle istituzioni i primi per difenderli i secondi per attaccarle se possibile smantellarle ciò che comunque veniva esclusa era la possibilità della loro modificazione come se non si potesse far altro che accettarle come erano abbandonare dal loro destino se le istituzioni sono per loro natura reazionaria evidentemente non esiste altra strada che combatterle frontalmente senza misurarsi con la fatica di trasformarle lo scontro armato degli anni settanta in italia è stato l'esito estremo dell'incapacità di pensare insieme istituzione e storia società e politica vita e forme in quegli anni sembrava che non mi fossero ipotesi intermedie tra richiamo alle armi e abbandono delle istituzioni a collegarli sia pure per contrasto era una richiesta assoluta di immediatezza contro ogni mediazione istituzionale in fondo quello che definiamo populismo è la volontà di saltare le istituzioni e prima ancora l'incapacità di intenderne il significato il suo presupposto il riflesso è costituito proprio dal rifiuto delle istituzioni un rifiuto che non di rado ha assunto un aspetto rozzo e violento l'assalto criminale di qualche mese fa a Capitol Hill l'istituzione politica americana principale da parte di una banda di scalmanati è stato forse la punta estrema e ultima di questo atteggiamento poi di recente l'onda anti istituzionale è iniziato a rifluire diversi segnali lo indicano in italia in europa nel mondo dando le sensazioni che le istituzioni si possano cambiare dall'interno e che possano cambiare la nostra vita ciò non basta perché la deriva anti istituzionale sia definitivamente interrotta occorre inaugurare un nuovo pensiero delle istituzioni capace di riconoscerne limiti e potenzialità partiamo da qualche definizione pur sapendo che le definizioni non sono mai perfette e tanto meno definitive cosa sono propriamente le istituzioni come nascono come si rinnovano quale forme assumono e quali contenuti veicolano come sempre in questi casi è bene partire dall'etimologia pur senza lasciarsene poi imprigionare istituire è un termine di ridazione latina che contiene le due polarità apparentemente contraddittorie del movimento e della stabilità per istituzione si intende da un lato un processo che dà vita a qualcosa che prima non c'era e dunque un'attività creativa fondativa generativa dall'altro l'esito di questo processo ciò qui esso previene un apparato stabile una realtà organizzata che serve a incalanare e facilitare la nostra esperienza individuale collettiva in questo secondo senso sono istituzioni gli imperi gli stati partiti parlamenti i sindacati ma anche la chiesa la scuola l'università le carceri gli ospedali le caserme e in senso ancora più ampio se si intende per istituzione un sistema di regole che determina una certa pratica di vita sono istituzioni anche il linguaggio il gioco il matrimonio lo scambio il dono tutto ciò che lega gli uomini in una prassi comune e ripetuta insomma le istituzioni sono forme strutture organizzazioni preposte all'edempimento di funzioni pubbliche e private rispondenti a determinati interessi il primo dei quali è la conservazione della vita ma ottenuta mediante la sua innovazione certo conservazione innovazione non sono la stessa cosa sono presenti in proporzioni diverse in ogni istituzione esistono istituzioni conservative di qualcosa anche di poteri resistenti istituzioni innovative che a loro volta producono trasformazione ma per cogliere il significato ambivalente dell'istituzione piuttosto che contrapporre questi due versanti occorre pensarli insieme con tutta la poria che ciò comporta istituire vuol dire cercare qualcosa che prima non c'era immettere una novità radicale nel quadro precedente ma poi perché l'istituzione prenda forma e si consolidi occorre che questa novità sia resa durevole permanente nel tempo così l'esito dell'istituire del dare inizio del generare più che un divenire uno stato un'entità destinata a stare resistendo alla sua dissoluzione da qui il carattere apparentemente antinomico dell'istituzione istituire un movimento che tende a negarsi a creare stasi inaugura innalza eleva qualcosa che poi deve restare fermo sulla propria base il risultato del movimento istituente e la stabilità dell'istituito da qui una sorta di scarto interno una tensione che rende l'istituzione esteriore al movimento istituente che l'ha generata e quello che hegel chiamava spirito oggettivo la solidificazione appunto oggettiva di un'intenzione soggettiva si tiatta di un processo al culmine del quale nella logica hegeliana vi è l'edificazione dello stato l'istituzione per hegel esprime questa dialettica di soggettivo ed oggettivo libertà e necessità interiore ed esteriore lo stato politico in hegel non opprime ma potenzia la società civile questa fiducia nella dialettica tra società e stato potere istituente potere istituito non dura a lungo già marx e poi ancora di più nice vedranno nello stato etico hegeliano il mostro freddo che max veba tradurrà nel concetto più sobrio ma altrettanto critico di gabbia d'acciaio già questa critica si possono far risalire i primi germi del processo di deistituzionalizzazione che ho fatto prima riferimento quella che ancora in hegel era una mediazione possibile si spacca in un'alternativa secca di cui il contrasto radicale tra movimento ed istituzioni costituisce l'esito ultimo rigidità istituzionale negazione violenta delle istituzioni diventano così le due polarità che hanno trascinato la discussione in un punto morto dal punto di vista filosofico e dal punto di vista politico se le istituzioni non sono altro che un grumo di potere volto alla propria autoconservazione non resta che la via violenta o rinunciataria della loro destituzione non a caso oggi ritorna da più parti il mito neo anarchico di una società senza istituzioni o come anche qualcuno dice di un processo destituente orientato a disattivarle una domanda di immediatezza rischia di travolgere l'architettura istituzionale la richiesta sempre più diffusa di democrazia diretta contro le istituzioni della democrazia rappresentativa ne costituisce allo stesso tempo sintomo e risultato l'alternativa che ne scaturisce scivola verso la drastica opposizione tra istituzioni senza libertà e libertà fuori dalle istituzioni quando invece solo la libertà nelle istituzioni restituisce una possibilità adeguata di vita civile per una ripresa di interesse nei confronti delle istituzioni bisogna aspettare gli anni ottanta del novecento il libro di james march e hoan olsen la riscoperta delle istituzioni ne segna anche simbolicamente la via ma già nei decenni precedenti alcune correnti culturali in particolare la fenomenologia francese l'antropologia tedesca e appunto l'istituzionalismo giuridico italiano avevano controcorrente e anticipatamente inaugurato una ricerca originale profonda sulla dinamica delle istituzioni cosa univa nonostante tante differenze questi filoni culturali direi essenzialmente tre elementi che velocemente richiamo innanzitutto il rapporto con la storia la storicità profonda delle istituzioni tutt'altro che un blocco della trasformazione storica esse sono sempre storicamente situate nel punto di incrocio di tensione tra passato presente e futuro proprio il loro radicamento nel passato solo il loro radicamento nel passato consente a partire dal presente di proiettare nel futuro torna la questione complessa del rapporto tra novità e permanenza Maurice Merleau-Ponty qui si deve una vera e propria fenomenologia dell'istituzione sostiene che in essa ogni presa è di fatto una ripresa e vanno a cercare un'origine precisa del movimento istituente perché esso si innesta in un processo storico il cui inizio è ormai irriconoscibile ciò non vuol dire che non si produca una novità ma che essa è sempre situata in una successione che non perde mai il contatto con le radici da questo punto di vista il processo istituente è diverso da quello che si definisce in termini politici potere costituente mentre questo scaturisce dalla decisione assoluta di un soggetto sovrano secondo la categoria teologica della creazio ex nilo la pass istituente è sempre creazio ex alico creazione a partire da qualcosa di già esistente e operante in questo senso la logica istituzionale si sottrae a ogni teologia politica catecontica escatologica messianica che oggi va tanto di moda la creazione non parte mai da zero la nuova istituzione l'istituzione del nuovo si innesta sempre in una realtà già istituita tutt'altro che assoluta da ogni condizionamento l'istituzione sempre condizionata dal contesto sociale in cui si situa ma attenzione condizionata non significa determinata perché il nuovo che crea non è mai pura ripetizione di ciò che già c'era nell'istituzione nell'istituire qualcosa emerge da qualcos'altro trasformandolo anche radicalmente ma non dal nulla come invece la scintilla della creazione divina o lo scoppio improvviso di una rivoluzione proprio perché nata su una base storicamente determinata l'istituzione può protendersi verso il futuro modificando radicalmente il panorama esistente si pensi per fare un esempio una scoperta scientifica che per quanto nuova sempre alle spalle una ricerca precedente che al contempo essa sviluppa e nuova o anche un'istituzione come la nostra come la scuola normale che si rinnova continuamente crescendo sulla propria radice originaria ma trasformando il reale la prassi istituente trasforma anche il soggetto che l'ha istituita è il secondo tratto caratterizzante dell'istituzione anziché un solo soggetto alla sua origine vi sono sempre più soggetti e la loro relazione non solo ma prolungandosi nel tempo l'istituzione si rivolge anche ai soggetti futuri alla generazione che succederanno a coloro che verranno e che già reclamano i propri diritti certo perché questo carattere plurale della plassi istituente si affermasse c'è voluto tempo belché il concetto medievale di istituzio faccia riferimento a una singola auctoritas dopo la rivoluzione francese l'istituzione ha sempre più assunto un volto collettivo e anche impersonale perfino lo stato pure interpretato dai giuristi come persona giuridica è costituito da un insieme di organi che oltrepassano la dimensione soggettivi agiscono almeno in teoria in modo impersonale ciò vale anche per il nuovo pensiero delle istituzioni che stiamo che stanno tentando di mettere in campo come ogni pensiero anch'esso non è mai del tutto originale riprende modificandoli pensieri già pensati da altri che saranno a loro volta ripensati e modificati successivamente ciò vale per il lavoro del filosofo ma anche per quelli dello scienziato del politico questo significa che anziché precedere l'istituzione la soggettività istituente è formata a sua volta da ciò che istituisce dalla propria messa in atto piuttosto che dipendere da un solo soggetto o anche da più soggetti precostituiti la prassi istituente plasma essa stessa la soggettività che produce distendendola in un processo come si dice di soggettivazione istituendo qualcosa il soggetto si istituisce esso stesso o meglio istituito dal suo stesso istituire è un'altra differenza dal potere costituente mentre questo è attivato sempre da un soggetto già costituito un partito un capo un'assemblea un popolo il potere istituente vede i propri soggetti emergere dagli stessi processi istituzionali che è attivato dal punto di vista istituente l'istituzione non è un'identità bloccata su se stessa ma un'entità continuamente alterata in questo senso anziché come un pieno va pensata piuttosto come un vuoto intorno al quale soggetti dove diversi si alternano senza mai occupare definitivamente il campo la forza dell'istituzione sta nel mantenere viva questa dialettica senza mai saturarla del tutto per farlo è necessario spezzare la catena che a lungo ha schiacciato la grammatica delle istituzioni sulla semantica del sacrificio e aprirla a un desiderio di vita una concezione sacrificale delle istituzioni ha percorso la cultura antropologica sociologica filosofica del secolo scorso perfino Freud condizionando la civilizzazione all'inibizione degli impulsi naturali ha finito per contrapporre istituzioni e potenza vitale soltanto sublimandosi e dunque alienandosi per Freud il desiderio umano può sopravvivere allo sviluppo della civiltà radicalizzando la prospettiva freudiana marcusi ha ribadito la concezione sacrificale delle istituzioni contrapponendoli agli impulsi vitali ecco rompere questo schema di lettura ricollegandole alla vita e il compito di una nuova teoria delle istituzioni il terzo e ultimo tratto del pensiero istituente è il suo pluralismo ovvero la sua irriducibilità allo stato sia moris o riù che santi romano istituzionalismo giuridico della prima metà del novecento allarga il concetto di istituzione al di là del al di là del perimetro statale rompendo il rapporto esclusivo tra istituzione e sovranità l'istituzione prima di dar vita allo stato si radica nella società da cui lo stesso stato emerge in un lungo processo di formazione come è noto lo stato moderno è assai più recente delle istituzioni antiche e medievali che lo hanno preceduto e a volte contrastato perciò come sostiene ho riù il suo potere non può essere incarnato in un'unica persona giuridica ma il vero salto di qualità in questa direzione compiuto da santi romano pur operando nel contesto del fascismo e non privo di tratti conservatori il suo pensiero ha una straordinaria potenza istituente se già in una celebre conferenza del 1909 sulla crisi dello stato individua in maniera preveggente le prime crepe dello stato sovrano nel suo capolavoro sull'ordinamento giuridico ribalta del tutto il rapporto tra stato e diritto e lo stato essere dipendente dal diritto e non viceversa ciò evoca in causa l'assoluto primato dello stato rispetto alle altre istituzioni che dalla tradizione hegeliana transita nel positivismo giuridico per romano ogni ordinamento è un'istituzione e viceversa in questo modo viene meno l'esclusività della persona giuridica statale come fondamento del diritto diritto che alla sua fonte non solo la legge scritta ma anche la consuetudine e soprattutto la necessità di ordine sociale ma anche di ordine naturale questa è tale da poter agire non soltanto la necessità extra legge ma anche contra legge derogando quando la situazione lo richieda dalle norme vigenti e creandone di nuove e la differenza da non perdere invece spesso perduta tra stato d'emergenza e stato d'eccezione per esempio i provvedimenti di contrasto alla pandemia non sono nati da una volontà soggettiva ma da una necessità oggettiva anche se naturalmente sono passati per l'approvazione del governo e poi del parlamento che li ha legittimati in questo modo lo stesso diritto originato dalla necessità sociale diventa una potenza istituente capace di creare sempre nuova realtà giuridica l'esito di questa impostazione è davvero dirompente rispetto alla tradizionale dottrina dello stato nella sovranità statale istituzioni autonome cioè autoregolate esistono non solo all'interno dello stato come quelle regionali comunali partiti sindacati ma anche al suo esterno per esempio l'unione europea ma esse possono sorgere perfino in polemica con lo stato come movimenti di protesta organizzati anch'essi potenzialmente istituzionali da qualche tempo assistiamo a una vera e propria proliferazione di istituzioni indipendenti dagli ordinamenti nazionali situati in un orizzonte sovra o transnazionale o sottonazionale ciò non significa che vengono meno le normative nazionali resta il fatto che in settori sempre più numerosi commercio sanità tecnologia comunicazione esse vengono dilatate o scavalcate le normative razionali da convenzioni che fanno dello stesso diritto un mosaico mobile in continua modificazione così emergono sempre più organizzazioni di altro tipo non solo esterne agli stati ma a volte in aperta competizione con essi come per esempio le istituzioni non governative orientate non a scopi di profitto e anzi a fini generalmente umanitari esse costituiscono uno dei più interessanti esperimenti di una prassi istituente innovativa pur essendo formalmente organizzazioni private perseguono finalità pubbliche sottomodendo le norme scritte e stanze bisogni domande irriducibili al linguaggio irrigidito degli organismi statali collocate all'incrocio tra diritto etica e politica le organizzazioni non governative non rispondono anzi forzano a volte le leggi dello stato riferendosi piuttosto a una sorta di società civile globale indefinibile in punta di diritto ma di fatto operante in situazioni di emergenza come guerre migrazioni carestie epidemia naturalmente nella scena squadernata ma anche slabbrata della globalizzazione accanto a istituzioni di questo tipo ne esistono altre anch'esse non governative espressive di precisi interessi economici come il fondo monetario internazionale l'organizzazione mondiale del commercio per non parlare di lobbies e corporation in natura ancora più opaca ecco mi avvio a concludere in questo quadro frammentato e disuguale come orientare il movimento in corso senza farsene sopraffare anche al netto della pandemia speriamo in regressione io credo che occorra muoversi in una doppia direzione in entrambi i casi riconducibile al ruolo insostituibile della politica intanto tenendo conto del fatto che in questa proliferazione istituzionale le diverse istituzioni pubbliche private miste non si equivalgono e se talvolta favoriscono interessi acquisiti potenziando la loro condizione privilegiata altre volte agevolano gruppi sociali svantaggiati a volte agiscono nel senso aperto e accogliente della comunitas altre volte nel senso chiuso escludente dell'immunitas bisogna non solo distinguere tra esse ma prendere posizione per le une contro le altre inserendo elementi esplicitamente politici all'interno di dispositivi solo in apparenza tecnici da questo punto di vista va valorizzato il ruolo del conflitto politico come sostengono i teorici dei sistemi complessi l'ordine qualsiasi ordine è l'esito di volta in volta è provvisorio di rapporti di forza tra valori e interessi differenti e concorrenti ciò significa che anziché tentare in vano di neutralizzare la pluralità degli interessi conviene valorizzarla incanalandola in una dimensione politicamente produttiva contro l'idea che il ruolo delle istituzioni sia quello di neutralizzare i conflitti in corso va riconosciuta la relazione costitutiva tra istituzioni e conflitto già sostenuta da macchiavelli quando spiegava che il conflitto sociale a roma tra nobili e popolari è stato il motore della potenza della repubblica romana il tribunato della plebe è un istituto nato dal conflitto e produttivo di conflitto neanche oggi oggi meno che mai il conflitto politico verrà meno in gioco nello scenario che in questi anni si è aperto all'incrocio tra crisi ambientale crisi economica e crisi sanitaria ve lo scontro inestinguibile tra interessi particolari e interessi generali tra stati forti e stati deboli forze potenti spingono in direzione dei primi ma la battaglia è aperta la mia impressione che la stessa pandemia che pure minaccia di produrre nuove chiusure possa favorire sul tempo lungo un processo di universalizzazione rivolto a tutto il genere umano mai prima di oggi si è parlato di immunizzare l'intera comunità riavvicinando due dimensioni della comunitas dell'immunitas finora contrastati naturalmente passare dalle parole tra i fatti sarà tutt'altro che facile come impedire che la stessa produzione e distribuzione ineguale dei vaccini determini nuove linee di separazione non lo spazio tutt'altro che liscio del mondo a venire non è facile per tanti motivi rispondere tuttavia resta il fatto che mai prima nella storia dell'uomo è stato così chiaro che il mondo o si salva tutto insieme o lo si perde nella sua interezza anche da questo lato la funzione delle istituzioni assumerà un rilievo decisivo nella società a venire a patto che sappiano rinodare quella connessione con la vita che è sembrata a lungo interrotta ancora una volta torna all'esigenza racchiusa nell'enigmatico lemma vitam instituere di istituire la vita nel doppio senso di vitalizzare le istituzioni e di restituire alla vita quei tratti istituenti che la spingono oltre la mera materia biologica grazie che ringrazio ringrazio tutti della vostra presenza del vostro affetto grazie 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 Allora, grazie mille e grazie a tutti. Grazie mille. Grazie mille.